Primo tavolo tecnico in vista della stagione estiva per la costiera amalfitana per affrontare i consueti problemi del traffico veicolare lungo la principale arteria di collegamento, di fatto l'unica escludendo il valico di Chiunzi, cioè l'ex statale 163 amalfitana. In prefettura a Salerno si sono ritrovati attorno a un tavolo sindaci, assessori, comandanti delle polizie locali e le altre forze dell'ordine con l'ANAS per programmare gli interventi ad iniziare dalla conferma dell'ordinanza dello scorso anno con il diveto di transito per gli autobus più lunghi di 8 metri, nei giorni festivi e prefestivi dal primo giugno al 31 ottobre, oltre che nei ponti legati alle festività nazionali. Per il comune di Amalfi un provvedimento da replicare durante tutto l'anno in determinati momenti critici. Il provvedimento dell'anno scorso di limitazione dei bus di una certa lunghezza in determinati periodi del periodo estivo ha dato un contributo importante alla viabilità nella costiera amalfitana. L'idea di quest'anno è di riproporlo ed estenderlo possibilmente anche ai giorni festivi e prefestivi da marzo ad ottobre in maniera tale da poter alleviare il carico pesante di mezzi che questa arteria sopporta quotidianamente. Passa un punto come provvedimento secondo lei o servirebbe qualcosa di più strutturato? No, sicuramente non contribuisce ad eliminare il problema, come ho detto serve ad attenuarlo. Ancora più duro il sindaco di Positano che vorrebbe una limitazione dei bus più grandi completamente dal 2019 e maggiore attenzione alle vero che concesse. Si guarda anche soprattutto al futuro della costiera, chiaramente l'arrione di oggi è un'arrione per tampone, per risolvere i problemi che sicuramente avremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma per mettere le basi affinché la statale dall'anno prossimo abbia una regolamentazione diversa. Spero che tutti gli attori in campo si diano da fare e capiscono il dramma che vive la costiera e che ha vissuto la costiera l'anno scorso. Come dovrebbe essere secondo lei regolamentato in maniera stabile? A questo punto presume? Sì, prima di arrivare credo la cosa essenziale sarebbe una limitazione dei pullman, però potrebbe anche essere qualcosa di diverso di avere pullman dal 2019 non superiore agli 8 metri. Questo al di là poi del fatto che dobbiamo con la Regione Campania capire queste deroghe che sta dando per il servizio pubblico, opseudo pubblico, che anche questo va rivisto perché il vero dramma probabilmente è il vero problema, è proprio questo, delle troppe linee che si intersegono tra di loro nei doppi sensi.